Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze e Scandicci e il Bivo con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla 12, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Infibili possibili disagi per fumo a causa di un incendio nelle campagne tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola fino al 28 agosto, tratto chiuso per lavori tra Rufina e l'incrocio con la statale 69 di Valdarno a Pontassieve in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!